La carabina Colt Espanse M4 è costruita sulla base di due semicastelli in lega ad alluminio 70-75 T6 con finitura protettiva anodizzata nera opaca. La canna da 40 cm in acciaio 41-50 CMV è rotomartellata a freddo, non è cromata ma presenta una finitura esterna al fosfato di manganese. Il rompifiamma è quello classico utilizzato sugli M16 A2. La canna presenta 6 principi di rigatura a destrorsi, con passo da 1 a 7 pollici, ma manca dello step-cut, ormai presente anche su tanti cloni, ad uso civile dell'M4. Il Colt Espanse M4 impiega il sistema a presa di gas diretta che gli AR della Colt utilizzano da 60 anni. Tutto il resto è tenuto al minimo, la stina è del classico tipo polimerico con lamierino protettivo interno, montata su delta ring. L'impugnatura è del tipo A2, mentre il calcio è quello classico M4, estensibile a 6 posizioni, montato su buffer tube di tipo 1000-spec. La carabina semiautomatica Colt Espanse M4 è comunque stata pensata per impieghi di tiro seri e intensi. I controlli della carabina sono classici, non ambidestri. Il pulsante di sgancio caricatore si trova a destra. Il pulsante di sgancio otturatore è sulla sinistra. La carabina ha una manetta d'armamento di tipo classico AT, priva delle leve esterne ad azionamento rapido. Lo scatto di tipo militare è un po' pesante e allo sgancio del cane è ben percettibile un allentamento marcato. La nostra impressione è che uno scatto di tipo match gioverebbe alla Colt Espanse M4. La qualità è militare, senza caratteristiche superflue. Una solita finitura nera protettiva sulle superfici delle parti in alluminio. La carabina Colt Espanse M4 non è minimalista per il puro piacere di esserlo. Rappresenta infatti un'ottima base di partenza per modifiche e personalizzazioni. Le componenti accessori di terze parti compatibili con questo modello non si contano. Potete montare praticamente tutto quello che il mercato offre. Non è l'Espanse M4 a confrontarsi con la concorrenza, ma la concorrenza a doversi confrontare con l'Espanse M4. Colt è tornato ad essere lo standard di riferimento per l'M4.